Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo insieme i risultati del nostro contest strategia del mese, parliamo del mese di marzo. Passeremo in rassegna una selezione delle strategie più promettenti tra tutte quelle che abbiamo ricevuto e andremo a scoprire la strategia che ha vinto. Vi daremo anche degli spunti operativi andando a analizzare le logiche di base delle strategie e osserveremo le loro performance. Vi ricordo che il concorso strategia del mese è il contest riservato agli studenti dell'Honger Academy, grazie al quale ogni mese è possibile partecipare sottoponendo una propria strategia e concorrere per la vittoria di un buono Amazon dal valore di 1000€. Io sono Giuseppe Bucci, coach all'Honger Academy e prima di iniziare vi chiedo di metterci un bel like e iscrivervi al canale attivando la campanella così che sarete sempre aggiornati sull'uscita di nuovi contenuti. Ok, ho parlato anche troppo quindi passo subito a mostrarvi le migliori tre strategie. Le prime due che vedremo ci hanno davvero colpito pur non essendosi aggiudicate la vittoria e subito dopo vi mostrerò la strategia vincitrice del contest che posso già dirvi ha qualcosa di davvero unico. Questa prima strategia è sviluppata sul future del Bund, titolo obbligazionario del governo tedesco. Utilizza un time frame di 15 minuti oltre che un secondo time frame di 1440 minuti quindi con una durata giornaliera. La sessione del Bund inizia all'1.10 della notte e termina alle 22. Potremmo definire questa strategia di falso breakout, cerchiamo di capire perché. In questa sessione vedete i prezzi che hanno toccato un minimo in corrispondenza del punto che vi sto mostrando e nella sessione successiva sono scesi al di sotto di quel minimo. risalendo poi sopra il minimo di cui stiamo parlando entreremo in posizione long e chiuderemo in questo caso la posizione con un profit target a questo livello. Ovviamente al lato short faremo la cosa opposta. La strategia utilizza uno stop loss e un take profit monetario e chiude tutte le posizioni ancora aperte dopo sette giorni. Andiamo a vedere le metriche per vedere come si è comportata questa strategia a partire dal 2010 fino ad oggi. Vediamo un net profit di 100.000 euro contro una massima perdita di 8.500 euro quindi il rapporto tra i due superiore a 10 è un'ottima metrica. La curva è crescente molto regolare direi sicuramente lo apprezziamo dalla parte long e dalla parte short vediamo come ha cavalcato bene le discese dei mercati obbligazionari a partire dal 2022 come vediamo sono precipitati davvero in basso. L'everage trade di quasi 240 euro è davvero un buon average trade per questo strumento e andando a vedere i profitti anno per anno al netto del 2016 vediamo che la strategia ha conseguito sempre ottimi risultati. Questa che vediamo è la seconda strategia della nostra selezione è stata sviluppata dallo studente sul future del gold dell'oro con un time frame di 5 minuti. La potremmo definire una strategia breakout dei livelli massimi e minimi del giorno prima. Vedete in questa sessione il prezzo ha toccato un massimo a questo livello e un minimo a quest'altro. Nella sessione che vi sto mostrando il prezzo è sceso sotto il minimo e in questo caso abbiamo aperto una posizione short che abbiamo chiuso a fine sessione con un buon profitto. La strategia è intraday quindi chiude tutte le posizioni a fine giornata le quali dureranno ovviamente solo poche ore. Ha uno stop loss monetario e lo studente ha scelto di non inserire un take profit anche giustificato dal fatto che la posizione resta tale solo per un breve tempo. Il codice è davvero semplicissimo pochissime righe quindi questo è un vantaggio anche per voi non serve essere certo programmatori della nasa per sviluppare questi codici e poi la semplicità sarà un vantaggio anche perché permetterà di affrontare eventuali cambiamenti del mercato. Andiamo a vedere le metriche per capire come si è comportata fino ad oggi. Vediamo un net profit di 165 mila dollari e una massima perdita di 14 mila circa quindi il rapporto anche qui è superiore a 10 e questo ci fa sicuramente piacere. L'equity line è regolare, crescente, molto bella. Lato long e lato short possiamo apprezzare la sua regolarità e l'average trade di 141 dollari è molto buono per una strategia soprattutto se consideriamo che intra day. Qui vediamo lo stop loss monetario posizionato a circa 2000 dollari poco meno e questi trade verdi che sono quelli vincenti con un ampio profit che non sono stati fermati dal profit target hanno proseguito la loro corsa. Quindi un'ottima strategia anche questa. Eccoci arrivati alla strategia vincitrice del contest, la strategia del mese, strategia sottoposta da Paolo, complementi Paolo, sviluppata sul crude oil future con un time frame di 5 e di 1440 minuti. È una strategia di tipo breakout. Anche qui come quelle viste in precedenza andiamo a ragionare sui livelli massimi e sui livelli minimi il giorno prima e in questo caso superando il livello massimo che vi sto mostrando si entrerà in posizione nella sessione successiva con una posizione long. Stessa cosa ovviamente invertita sulla posizione short. Ha una durata intra day quindi una strategia che chiude tutte le posizioni a fine giornata e prevede uno stop loss e un take profit monetari. Questa strategia è stata sviluppata nel pieno rispetto del metodo Unger. Che cosa significa questo? Innanzitutto prevede una simmetria quindi tutte le regole che vengono applicate lato long sono specularmente utilizzate anche per la parte short e questo nella commodity come il crude oil è sicuramente un ottimo modo di operare. Poi aspetta una compressione dei prezzi del mercato prima di entrare a breakout quindi vogliamo che i prezzi in qualche modo raggiungano una stabilità prima di esplodere in una certa direzione li proveremo a cavalcare il trend dei prezzi. Ha inoltre una time window operativa quindi una finestra all'interno della quale noi siamo autorizzati a lanciare gli ordini che è stata impostata molto correttamente e ha delle uscite monetarie come dicevo in stop e profit a dei livelli davvero corretti. Quanto fatto da Paolo ci inorgolisce e ci dimostra che il metodo Unger è replicabile e può portare ad ottimi risultati. Andiamo a vedere le metriche della strategia. Abbiamo un net profit di 147 mila dollari contro una massima perita di 11 mila e quindi un rapporto tra questi due valori di oltre 13. Questo è sicuramente un buon parametro. L'everage trade di 183 dollari è buonissimo considerando che la strategia è una strategia intraday che quindi sta a mercato pochissime ore e andando a vedere i risultati anno per anno vediamo anni sempre positivi con un average trade molto molto alto e l'ultima metrica che ancora non vi ho svelato ora vi farò vedere è l'equity line. Eccola qua. Questa è un equity line davvero spaziale. Quando l'abbiamo vista la prima impressione è stata wow. La seconda però è stata andiamo a vedere se per caso lo studente non si è scivolato in qualche tranello dello sviluppo che ci mostri questo come risultato dei suoi test ma che poi però nella pratica non darebbe gli stessi risultati. E cosa abbiamo fatto? Uno dei tanti test per passare a raggi X questa strategia è stato quello di modificare di apportare delle piccole modifiche al codice e vedere se con questi piccoli cambiamenti i risultati rimanessero ancora buoni. Devo dire che ha passato egregiamente tutti i test che abbiamo fatto e quindi ci siamo dovuti arrendere e dobbiamo decretare questa come miglior strategia del mese ancora complimenti Paolo. Bene se il vostro obiettivo è imparare a creare in autonomia delle strategie di trading come quelle che abbiamo appena visto siete nel posto giusto. Durante l'apprendimento infatti potrete anche voi partecipare a questo contest dedicato esclusivamente agli studenti della Unger Academy per aggiudicarvi ogni mese un buono Amazon da 1000 euro. Per qualsiasi altra informazione vi invito a cliccare al link che trovate in descrizione così che da lì potrete ottenere una presentazione gratuita di Andrea Unger, ricevere a casa il libro bestseller il metodo Unger coprendo solo le spese e spedizione, infine prenotare una chiamata con un membro del nostro team per ottenere una consulenza strategica gratuita. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale per essere sempre aggiornati sull'uscita di nuovi contenuti. Grazie dell'ascolto e alla prossima!